Che sta facendo? No, ma non è più difficile, ma dovrò fare un po' prima. Mi sa di fare ce d'amore? Non? Stai. Ti це nemmeno, ti cani che ora e i bambini Ma bene, l'ultato si faceva. Ho dovuto? Questo vuole veri da un russolo. Sì, stai facendo il foglio 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 Va bene, che è pronto Comunce 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 Stiamo spalando Faccio un dingo, dice? Vai, voto Un minuto quando non è muncita, eh Non è vero, non è? Va tu, non si è tappo Non si è tappo Non si è tappo Sì, vedi, vedi Sì, vedi Sì, vedi Sì, vedi si! ah! come sta avanti, bellissimo! miglia! a un po' di russi! vai chiapa, zaro! e non hai la sala cimpeando? come hai tu? come hai tu? si! che bomba ora! vai, vai! dove andasci? vai! sopra la terza ni cara! ah! venga! venga! porco! che stai pegando? venga! 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 Sì, non ci sono anche 10 minuti. Va bene. a presto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti